Per quanto riguarda l'aspetto concernente i presunti mancati ritorni legati alla FACO di Cameri, pare opportuno citare alcuni dati che l'amministratore delegato e il direttore generale di Femmeccanica, dottor Panza, ha illustrato il 16 ottobre scorso presso la quarta difesa e quarta commissione difesa della Camera dei Deputati nell'ambito della indagine conoscitiva sui sistemi d'arma. Nel merito, il ritorno industriale a vita intera sono al momento stimabili in almeno 10 miliardi di dollari. per l'intero sistema industriale italiano coinvolto. Si ritiene comunque che la successiva evoluzione del sito FACO di Cameri, anche in un centro regionale di supporto, per la manutenzione, riparazione e ammodernamento, sia per la parte aerostrutture che per l'avionica e per i sistemi di armamento delle flotte F-35, potrà comportare l'aumento del livello di trasferimento tecnologico verso l'industria nazionale e anche maggiori ritorni economici. Ringrazio l'onorevole Luca Frusone, a facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie Presidente, ringrazio anche il sottosegretario che è qui oggi presente, ma assolutamente non vedo un motivo per ritenerci soddisfatti della risposta. E spiego anche perché, innanzitutto, ringrazio il sottosegretario per essere qui. Quindi, sinceramente, troviamo assurdo che né il ministro né i sottosegretari della difesa abbiano trovato un momento per risponderci a questa interpellanza. Il sottosegretario non me ne voglia, assolutamente, so benissimo, l'ambasciatore non porta pena, ma il sottosegretario ha le politiche agricole, con gli F-35, permettetemi, il collegamento ortofrutticolo non c'entra un cavolo con gli F-35. Ci ritroviamo assolutamente insoddisfatti perché, innanzitutto, questa nostra interpellanza non nasce da una mia richiesta singola né dal mio collega Artini, ma viene mossa da un intergruppo, un intergruppo per la pace. Quindi è una richiesta trasversale che attraversa tutta la Camera dei Deputati, arriva anche al Senato. Quindi non è una richiesta che si ferma solamente ad un mio capriccio o a quello del mio collega, ma veramente è una volontà sostenuta da una gran parte del Parlamento, da questo intergruppo per la pace di cui facciamo parte. Quindi noi abbiamo sottoposto queste domande, aspettato a noi il compito, ma non abbiamo avuto risposte. Abbiamo chiesto chiarezza in questo programma, non stiamo parlando di spiccioli, stiamo parlando all'incirca di 13 miliardi. Dico all'incirca perché noi, sinceramente, non sappiamo veramente quale sarà la cifra finale. Chiediamo semplicemente chiarezza. Noi ci rendiamo conto che quando si parla di difesa, l'Italia acquista strumenti, armamenti, strumenti d'arma come se fossero veramente giornali all'edicola la mattina. Mi piace quello, acquisto quello, voglio quell'altro, non c'è un progetto dietro, non c'è assolutamente nessuna proiezione al futuro. E quando ci arrivano questi progetti d'arma, non parlo solamente dell'assetto strategico e della funzione finale della nostra difesa e della sicurezza del Paese, ma noi ci troviamo veramente a combattere con le cifre. Ogni volta ci troviamo di fronte a degli scenari assurdi. Noi ci troviamo ad un certo punto a discutere o di 131 F35 o di 90 F35. Il costo finale è sempre lo stesso e quindi a quel punto noi ci chiediamo ma se 131 F35 costano 13 miliardi, 90 costano sempre 13 miliardi, come si fa a negare che il costo sta aumentando sempre di più, perché effettivamente stiamo parlando di 40 F35 in meno. Chiediamo il costo singolo, facciamo audizioni, ma non ci vengono mai date risposte. Anche l'altro giorno eravamo in audizione con l'amministratore delegato di Finmeccanica Panza. Abbiamo chiesto il costo singolo di un F35 e anche lì ci sono state date delle risposte assurde, perché appunto si parlava di 90 milioni di euro per un singolo F35, ma non si specifica se è con motore, non si specifica se effettivamente comprendono tutti i costi che ci sono intorno. Noi abbiamo provato a fare un singolo calcolo del costo di un F35 e appunto basandoci naturalmente sull'altra parte, al di là dell'oceano, su quello che dicono gli Stati Uniti e abbiamo trovato dei dati completamente differenti. Noi ogni volta che chiediamo trasparenza e certezza dei costi, arriviamo a queste risposte che veramente non ci dicono nulla. Noi al di là dell'oceano abbiamo saputo che appunto Supergiù si parla di 100 milioni di dollari senza motore, a cui aggiungiamo noi, ipotizziamo 25 milioni di dollari per questo motore Pratt & Whitney, che ancora non si sa il costo, quindi anche la nostra è un'ipotesi. Quindi non riesco a capire come si fanno a dare delle cifre, a sparare delle cifre dall'altra parte. Quindi arriviamo ad altri 60 milioni di dollari che vengono aggiunti al costo complessivo, quindi arriviamo all'incirca a 190 milioni di dollari. Dopodiché sono anche buono, scalo quel 5% che appunto appartiene all'Italia con quell'investimento, all'incirca 4-5%, ma alla fine arriviamo ad un costo superiore, ma di molto, a quello che ci viene detto. Noi ci ritroviamo di fronte ad una spesa all'incirca per singolo aeroplano di 135 milioni di euro e siamo buoni veramente, noi facciamo sempre delle stime a ribasso, ma lo facciamo noi, non è il nostro compito, noi dobbiamo decidere sulla base di dati e purtroppo dall'altra parte i dati non ci vengono mai forniti. Quando si parla di difesa siamo veramente in una bolgia totale, non ritroviamo un dato che combacia con quello che abbiamo dall'altra parte dell'oceano. Ci troviamo sempre in questa indefinitezza, veramente è assurdo. Io non sono un tecnico del settore difesa, ma sinceramente pensavo che un settore del genere, stiamo parlando di difesa e sicurezza, stiamo parlando di armamenti di miliardi di euro, miliardi, non sto parlando di milioni o di migliaia di euro, non sto parlando di un acquisto per la tipografia, non sto parlando di cose banali, sto parlando veramente di una cifra esagerata, una cifra esagerata. Io adesso tralascio il discorso che va sull'utilità di questi mezzi, sulla compatibilità con il nostro articolo 11, di questo ne abbiamo parlato veramente tanto. Siamo quasi stufi di parlare degli F35, delle promesse che sono state fatte in campagna elettorale da alcuni partiti, che non sono state rispettate, dell'aspetto appunto difensivo di questi F35. Potrei parlare veramente giorni di questo, ma è una cosa assurda arrivare qui oggi e non avere ancora dei dati certi. So benissimo che è un contratto particolare, che si parla di un programma a lungo termine e quindi ci troviamo di fronte a dei dati che possono variare, di fronte a degli scenari economici, a molte variabili. Questo ne siamo ben certi. Ma noi apprezzeremo veramente tantissimo una dichiarazione del Governo che dice che purtroppo ci troviamo in una situazione economica particolare, non siamo in grado di definire questa cifra, vedremo come andrà a finire. Noi preferiamo piuttosto questa chiarezza alle cifre che ci vengono sparate ogni giorno, perché a seconda della campana che sentiamo ci vengono date delle cifre diverse. Anche oggi sinceramente non siamo assolutamente soddisfatti di questa risposta. Noi stiamo acquistando, non si sa addirittura il numero degli F35, quindi l'assurdità è questa. Ci troviamo veramente di fronte ad un acquisto dove non si sa il numero finale degli strumenti che andiamo ad acquistare, quindi come si può parlare di spese, di budget. È veramente un'assurdità totale tutto questo progetto. Ci troviamo ogni giorno a combattere con delle cifre. Arriviamo a questo punto dove non sappiamo nemmeno se sono 90, se sono 131, non sappiamo le ali. Ogni volta si parla di questo ritorno economico, noi ci troviamo di fronte. Io ricordo, non ero ancora qui perché si parlava della Commissione di Difesa della scorsa legislatura, il generale Esposito venne qui a dire che noi producevamo 1200 ali e quindi c'era un ritorno economico assurdo. Addirittura ce li ripagavamo questi F35, erano gratis. Tant'è che mi viene in mente il discorso sulla cultura. Un euro in cultura genera 3, 4, 5 euro di ritorno economico e lì non li facciamo questi investimenti. Invece mi devo sentir dire che addirittura questi F35 con il lavoro che portano verranno ripagati. È veramente un'assurdità e si parlava di queste 1200 ali. L'altro giorno sono arrivati, Panza ha detto che ne produrremo 800, ce ne siamo perse 400, forse da Cameri a Roma. E così, in un batter d'occhio, questi numeri diminuiscono. Si parlava di 10.000 occupati, siamo arrivati a 5.000 l'altro giorno. Noi in realtà ne stimiamo 1.000, se tutto va bene, perché appunto la stessa audizione in Commissione di Difesa ci ha fatto capire questo. che Panza ha parlato degli ingegneri, ogni ingegnere formato in Italia ci costa un milione e mezzo di euro e noi li spostiamo da dei progetti che vanno avanti, come per esempio quello degli Eurofighter, e li spostiamo sugli F35 e a questo punto li spostiamo, è stato detto proprio da loro. Quindi non si crea occupazione, perché come spostiamo gli ingegneri, spostiamo anche gli operai, le persone che costruiscono questi aerei. Queste 10.000 persone sono veramente delle cifre assurde. Noi ci ritroviamo ogni giorno a combattere con queste cifre sparate. Sembra il 26 dicembre dove si dà la tombola, si lanciano dei numeri, ma sinceramente noi questi numeri nella cartella non li abbiamo. Ogni volta che chiediamo di essere più specifici, di darci delle cifre concrete, arriviamo qui alla fiera della banalità del pressapochismo, si danno delle cifre assurde che non hanno riscontro assolutamente in qualche dato, nei contratti. Noi abbiamo visto i contratti, abbiamo visto i pari lotti. Deve concludere. Sì, so che c'è la fila dopo di me, quindi... No, ci sono delle regole che devono rispettare tutti. No, 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 era una battuta, assolutamente, non sono perfettamente d'accordo. Quindi io concludo dicendo che noi, del Movimento 5 Stelle, l'Intergruppo per la pace, non si può ritenere assolutamente soddisfatto di questa risposta. E chiudo assolutamente dell'andazzo che c'è in materia di difesa sulle cifre e sulla trasparenza. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interpellanza urgente 2, 250 dell'On. Brunetta, concernente elementi in merito allo smaltimento di rifiuti industriali nella discarica di Falcognana. Chiedo all'On. Brunetta se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi. Prego, On. Brunetta. Signor Presidente, signor Sottosegretario, il Ministro Orlando, lo scorso 11 settembre 2013, nel corso dell'audizione congiunta con il Ministro Moavero Milanesi, Affari europei, nelle Commissioni riunite Ambiente e Politiche Comunitarie, dichiarò che la questione delle discariche e della gestione dei rifiuti rappresenta motivo di buona parte delle procedure di infrazione in materia ambientale aperte nei confronti dell'Italia dall'Unione Europea. È alto il rischio che le procedure di infrazione già aperte arrivino a diventare ulteriori sanzioni con aggravio per il bilancio dello Stato e senza una corretta politica di gestione integrata del ciclo dei rifiuti che altre nuove infrazioni si aggiungano a quelle aperte. Abbiamo quindi davanti due processi virtuosi da mettere in atto. Da un lato il superamento dell'emergenza ambientale in tante zone d'Italia per ritornare a una gestione ordinaria dei rifiuti nel rispetto delle regole nazionali ed europee.